Gli eventi sono andati benissimo perché ci sono state oltre 23.000-25.000 presenze e questo ci dà un po' il polso di quello che effettivamente sia la realtà dei premi internazionali Flaiano, una realtà ormai non soltanto pescaresi e abruzzesi ma nazionale e internazionale. 50 anni 50 eventi e lo slogan scelto è ripetuto questa mattina dal presidente dei premi internazionali Flaiano, Carla Tiboni, che ha tracciato un bilancio dell'ultima edizione. Appuntamenti e eventi gratuiti come tradizione perché, lo ha ricordato la stessa Tiboni, la cultura deve appartenere a tutti. Altra cosa importante su cui si è soffermata Tiboni, nonostante le incomprensioni dell'estate scorsa, il desiderio è quello che i premi restino a Pescara, anche se... È ovvio che i premi Flaiano appartengono a Pescara, appartengono soprattutto al pubblico pescarese. Noi siamo disponibili a rimanere a Pescara, a lavorare ancora a Pescara, devono ovviamente esserci le condizioni. Stiamo già lavorando per la 51esima edizione dei premi, quindi con le condizioni idonee per poter andare avanti, direi che possiamo lavorare serenamente. Ma ci vogliono le condizioni, condizioni di collaborazione, serenità, ma soprattutto consapevolezza dell'importanza e della grandezza dei premi internazionali Flaiano per la città di Pescara e per l'Abruzzo. E non finisce qui perché domenica 3 dicembre è in programma l'evento di chiusura per salutare il pubblico dei premi. Ci sarà un concerto di musiche da film al Teatro Cinema Circus alle 17.30. Sarà con noi anche Martina Riva, rappresentatrice dei premi Flaiano. E vorremmo fare un po' la summa dei premi e ripercorrere questo cinquantesimo anno e questa cinquantesima edizione che dedichiamo ad Ada D'Adamo. Senza dimenticare Edoardo Tiboni, lasciatemelo dire, il grande operatore culturale che ha creato e che ha pensato con il successo che oggi possiamo celebrare dei premi Flaiano. Grazie a tutti.